Ascensione! quella curvetta del cavolo lì se non ho imparato in 56 anni io dico anche io no vabbè ascolta capita eh zona stupida tante volte quella più stupida che ti frega non c'entra a fare i tornanti così io non li ho mai mangiati e quindi poi dipende destra e sinistra tante volte poi hai messo il piede a valle invece dovevi metterne uno a monte e andavi ci sta vai Luigi si e non gli dà porca trotta non gli dà un cazzo di gas l'aveva fatta come faccio a girare qua l'avevi fatta attention si ma cazzo di fa di fa normalmente quando non c'è giù le bindelle cioè ma quando mai Luigi o lei luigi o lei filmo te che è meglio tanto lui lo filmo tutte le domeniche ascoltami ma non c'è verso non impara non impara non impara sì ma diventiamo vecchi ho detto solo lei ha detto che prima o poi impara quindi sì ma diventiamo vecchi grazie 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 grazie